Questo libro è prima di tutto una mappa, una mappa del passato per comprendere il presente e poi è un libro anche a tratti avvincente, a due capitoli di grande attualità che però terremo alla fine un po' come i fuochi d'artificio finali, però mette le mani nel passato che ci sembra così lontano e invece secondo Paolo Miele è molto vicino. Allora io vorrei chiederti Paolo perché ci sono due capitoli di struttura, uno sul fascismo e uno sul comunismo e sono entrambi come delle premesse per capire il presente, si è andato proprio nelle prime pagine a entrare dentro una storia apparentemente lontanissima, Norimberga, i fantasmi di Hitler, ci sono delle pagine memorabili anche su questa lettura letteraria di quella stagione, di quell'evento e mi ha colpito molto una frase, però raccontala tu come vuoi, che dobbiamo evocare di Goering che al processo sfida i suoi accusatori e dice passeranno 50 anni e mi farete un sarcofago di marmo. Ma ecco perché sei partito così apparentemente così da lontano? Allora spiego innanzitutto perché rifarsi al Novecento per arrivare come diceva adesso Luca Delese alle cose odierne. è perché solo capendo le complicazioni del Novecento noi possiamo avvicinarci alle cose moderne di cui ovviamente non possiamo fare la storia, nel senso che noi oggi delle guerre in corso, la guerra d'Ucraina e la guerra di Israele, Israele-Gaza, è troppo presto perché possiamo provare a farne una storia, però possiamo trarre dal passato degli insegnamenti, dal passato recente, dal Novecento, dalle cose che ricordava adesso Luca Delese, possiamo trovare dei criteri e il criterio fondamentale è che nella storia molte cose sono apparenza, nel senso che la storia è normalmente raccontata una prima volta a ridosso degli avvenimenti ed è una storia dei vincitori sui vinti, una storia che racconta le ragioni dei vincitori e i torti dei vinti. Dopodiché man mano che passa il tempo gli storici cominciano il loro vero lavoro e il loro vero lavoro è quello di cercare di capire le ragioni dei vinti o parte delle ragioni dei vinti e i torti dei vincitori. Una volta imparato, ve la faccio a breve, una volta imparato questo metodo, questo metodo andrebbe applicato al presente, nel senso che è ovvio che nel guardare alle guerre in corso ognuno di noi ha delle opinioni ferme ed è giusto che sia così e che queste opinioni ferme le faccio a valere. Però è un buon antidoto a uno spirito eccessivamente militante quello di cercare di capire anche le ragioni dell'altra parte i torti della parte che si è scelta. Che vuol dire questo? Vuol dire rinunciare a guardare le cose con dei principi che ognuno di noi ha, no ovviamente non è questo, ma vuol dire che ci si avvicina di più alla verità e ci si avvicina di più soprattutto alla composizione dei conflitti se si è distaccati da questi conflitti, se si smette dopo un inizio militante di guardarli con spirito militante, di guardarli con uno spirito più compositivo, cioè vedere quali possono essere le vie con cui i conflitti possono essere composti. Aggiungo una cosa, poi ti ridò la parola immediatamente. I conflitti noi abbiamo una visione per cui sono per definizione negativi perché provocano morti, perché sono lottuosi, però i conflitti sono anche nella storia qualcosa che non sparisce mai, le guerre purtroppo non spariscono, o se spariscono come sono sparite nel secondo dopoguerra è solo perché si sono riprodotte in zone remote e quindi abbiamo potuto prenderne le distanze, ma c'erano, noi abbiamo vissuto gli anni dal 1945 ad oggi pieni di conflitti, di genocidi, di generazioni di morti, di lutti. Ma fuori dall'Europa? Ma fuori dall'Europa, lontani dall'Europa e ci sembrava, alcuni poi dentro l'Europa perché quello dei Balcani era dentro l'Europa, ma sempre fingendo che fossero lontani da noi. La novità di questi due conflitti e della loro contemporaneità è che ci hanno riportato dentro, questa volta per la prima volta dal 1945 abbiamo l'impressione di essere in guerra, qualcosa che non ci colpisce direttamente ma in qualche modo ci richiama a una quotidianità della guerra che significa che la guerra temuta, la nuova guerra mondiale di cui parlò Papa Francesco è in atto, non è un rischio lontano, attenti che ci potremo finire. Questi sono conflitti destinati a durare e che possono essere composti solo con le logiche di cui vi ho parlato prima, cioè logiche in cui le parti in conflitto cominciano a capire ognuna le ragioni dell'altra. L'Ordine di Yalta quindi ci ha regalato questi 50 o 70 anni di pace a seconda di come contiamo. Apparente. Apparente, però anche sostanziale nel senso che non abbiamo dovuto affrontare mai una stagione come quella dell'Ucraina, non abbiamo mai dovuto avere voti drammatici come quello che si è celebrato ieri in Europa, però mi interessa proprio se dai un lampo perché è molto godibile quella fresco. Tu in qualche modo dici lì già c'era i vinti, là erano stati già come dire sepolti senza i dovuti onori, cioè c'era un po' una scatola nera anche nel testamento della seconda guerra mondiale. Beh, lo stesso processo in Nuremberg, se uno ripensa alla seconda guerra mondiale, ma non vorrei annoiarvi sulla seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale in realtà è raccontata in modo distorto nei nostri manuali perché fuggono due guerre mondiali, una che iniziò nel settembre del 39 quando in omaggio a un patto fra russi, fra sovietici e tedeschi, cioè fra nazisti e comunisti, contemporaneamente in quello stesso mese del settembre i nazisti e i comunisti aggredirono la Polonia a distanza di dieci giorni e ne occuparono metà una e metà l'altra. Da quel momento, al giugno del 1941, i nazisti e i comunisti combatterono insieme, nel senso che i sovietici si paparono metà dell'Europa all'Europa orientale, mentre i nazisti si applicavano all'Europa occidentale. Dopodiché furono così esaltati Hitler e i nazisti dalla facilità, la relativa facilità con cui avevano occupato l'intera Europa continentale, perché ci fu un momento tra il maggio e il giugno del 1940, in cui tranne l'Inghilterra tutta l'Europa era direttamente o indirettamente in mano ai nazisti e dicevo, esaltati da questa prova di forza, i nazisti ruppero quel patto, aggredirono l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica passò dall'altra parte, dalla parte da cui sarebbe finita la guerra e ci fu la seconda guerra mondiale, l'altra parte della guerra mondiale. Salto tutti i passaggi, sapete come è andata a finire, che l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, i paesi ad essi alleati vinsero la seconda guerra mondiale, ma poi sedettero su un banco degli accusatori al processo di Nuremberg, in cui si ritrovarono nella veste alcuni degli accusatori, alcuni degli imputati, i protagonisti della prima parte della seconda guerra mondiale, nel senso che il ministro Molotov e il ministro Ribbentrop si ritrovarono a essere uno processante e l'altro processato. Ora capite bene come, ristudiando la seconda guerra mondiale, questa cosa appare come una truffa, qualcosa che mette in discussione il processo di Nuremberg e indebolisce l'idea stessa che si possono fare tribunali di quel tipo, tant'è che, sempre per farla rapidamente, tutte le sentenze emesse dai tribunali internazionali in questa fase della guerra, non so quando definiscono Putin un criminale o quando condannano gli attuali dirigenti di Israele, Netanyahu in testa, a, sia pure con delle formule, insomma, indevenire per genocidio, sono sentenze che poi non vengono applicate, nel senso che paesi che riconoscono la Corte, come la Mongolia, che riconosce la Corte Penale Internazionale, riceve Putin con tutti gli onori o in Israele non si procede, non c'è nessun atto da parte di altri paesi occidentali che riconoscono queste istituzioni internazionali a procedere di conseguenza. Quindi l'idea che il bene e il male in una situazione di guerra possono essere tagliati così di netto e che tutto è facile e che basterebbe una tregua o basterebbe un compromesso abborracciato per porre fine al conflitto è un'idea del tutto irrealistica. L'idea buona è che innanzitutto quello che sta accadendo, quello stesso di cui si discute oggi qui in questo convegno, è che il mondo può, come è successo anche durante prove più terribili, durante la prima e la seconda guerra mondiale, continuare a vivere anche in presenza di conflitti e che le soluzioni dei conflitti passano per i piccoli compromessi piuttosto che per le grandi definizioni. Cioè piccoli compromessi, piccoli atti di pace uno dietro l'altro sono molto più significativi di quelli che vedete descritti come soluzioni universali. Chiunque proponga una soluzione universale in una fase come questa è un mentitore, un truffatore, magari inconsapevole, non in mala fede. Chiunque propone, io sono molto più lieto quando vedo che c'è stato uno scambio di prigionieri fra russi e ucraini o che dei militari israeliani dispensano dosi di vaccino antipolio dei bambini palestinesi, piccoli atti come questi che si accumulano tra di loro valgono molto di più della missione Blink, stiamo alla undicesima o alla dodicesima, cioè delle missioni che pretendono di trovare una soluzione definitiva. dobbiamo abituarci a convivere efficacemente andando avanti, guardando avanti con questi conflitti e adoperarci nel nostro piccolo, ognuno per la sua possibilità, perché tutto quello che si può fare di carattere pacifico si faccia. Allora, leggendo il tuo libro e l'interpretazione che suggerisci, colpisce il modo in cui tutti tornano alla storia per piegarla alle loro esigenze del presente. Certo, non è una novità, ma c'è un esempio clamoroso nel rapporto fra la storia del comunismo sovietico e Putin. Putin parte, come racconti, come restauratore, addirittura prova il primo atto e provare a riprendere l'egemonia sui vecchi paesi dell'Unione Sovietica e poi dopo aver quasi rispolverato Lenin addirittura in una visione cristologica, la Salma, come una reliquia sacra, si trova poi a combattere contro Lenin perché Lenin è uno dei padri indiretti dell'Ucraina, nella logica dell'Unione Sovietica e tutti gli stati erano fratelli e quindi il nazionismo ucraino è stato anche coltivato dai sovietici per impedire che quello russo prevalesse. Quindi è un continuo cantiere in cui si cambia il giudizio sul passato proprio da una fase all'altra. Cosa ti ha colpito in questa operazione di ritorno del nazionalismo che non è poi solo quello di Putin, è quello di tutti questi popoli che noi avevamo considerato un orrore del novecento o comunque la madre di tante guerre? Beh, per quello che riguarda la Russia mi colpisce il fatto che la Russia secondo me motivatamente concepisse se stessa come quella nata tra la fine del settecento e l'inizio dell'ottocento, diciamo, la Russia di Caterina II che diventò, divenne una potenza destinata ad avere, a durare nel tempo e ad avere un destino nel tempo. Dopodiché questa visione la dissolse, come tu hai appena ricordato, in una prima fase con Lenin che concesse inopinatamente ma in base a un principio logico, un'autonomia a tutti gli stati che companevano la Russia degli czar e poi questa autonomia fu rapidamente revocata già dai tempi mentre Lenin stava morendo negli anni fra il 23 e il 24 e poi da Stalin in una maniera assolutamente brutale. E però se si guarda la storia nel suo complesso è lì che va trovato il punto d'equilibrio. Cioè il punto d'equilibrio va trovato fra la capacità della Russia di sentirsi in azione, sentirsi sicura con degli stati confinanti che non rappresentino minaccia e nello stesso tempo dare a questi stati confinanti una dignità e una sicurezza per cui essi stessi non si sentano minacciati. Il vero tema della guerra d'Ucraina è che è difficile essere confinanti con la Russia. Guardate, sembra un tema astruso, ma è un tema che si pose anche in Europa nella seconda metà del Novecento. Noi abbiamo dimenticato, ma per noi l'Alto Adige, la questione dei confini con la Germania. Quelli si sentivano tedeschi, impiegavano anche bombe per... I tralicci, il terrorismo. E con una politica come quella che suggerivo io dei piccoli passi a un certo punto si trovò un compromesso fra autonomie, garanzie, garanzie di poter frequentare le scuole nella propria lingua, usare i propri costumi e l'Europa confinante con la ex Germania nazista fu pacificata, ma fu possibile questo perché era la ex Germania nazista, cioè una Germania sconfitta. Con la Russia, che è un paese che invece non è stato sconfitto, è la cosa più complessa, ma è quello il punto d'arrivo. Il punto d'arrivo è di trovare una soluzione per cui la Russia si senta garantita e i paesi che confinano con la Russia si sentono garantiti. E' la stessa cosa che si pose con l'Alto Adige, cioè noi potevamo benissimo precipitare in una lunga guerra che ci avrebbe travagliato per decine d'anni e per tutti gli anni 50 fino alla metà degli anni 60 la cosa appariva così. Se voi andate a riprendere i giornali di quegli anni appariva possibile che ci saremmo trovati con un paese terrorista, come è apparso per l'Irlanda, per i paesi baschi. Noi ci raccontiamo che la storia d'Europa nel secondo dopoguerra fu semplice, ma fu semplice per alcuni di noi, ma ci furono tante zone d'Europa che faticarono a trovare un compromesso e il caso irlandese è il caso più clamoroso, ci vollero una cinquantina d'anni perché trovassero un punto d'intesa. Per i paesi baschi fu la stessa storia e per altre realtà continua a essere una storia a rischio. La Catalogna che è appena citata è una zona pericolosa, è una zona che può mettere a repentaglio la sicurezza della Spagna. Che significa anche questo? Significa questo. Piccole soluzioni valgono più di megaprogetti. i megaprogetti, proprio per essere megaprogetti, lasciano le cose più o meno al punto di partenza e riproducono il conflitto a distanza di pochi mesi e pochi anni. Le piccole soluzioni accumulate invece sono cemento, sono definitive. Terza cosa molto importante è abituarsi all'idea che nel corso di conflitti il mondo va avanti, il mondo procede, le attività economiche. Cioè quello di cui ho sentito parlare poc'anzi, cioè il fatto che ci siano iniziative economiche di questa portata che hanno dimensioni strutturali ci aiuta a fare quei piccoli passi che compongono la pace. La pace è fatta da quelli che continuano a lavorare a dispetto dei conflitti perché vuol dire che hanno fiducia, che non pensano, oddio qui è tutto finito, portiamo i nostri piccoli averi o grandi averi in Australia, in America Latina, lontano dai conflitti perché diamo per persa la situazione e continuano a lavorare e aver fiducia che quello che oggi appare un mondo instabile possa diventare stabile. E nello stesso tempo ci siano iniziative che producono quelle piccole composizioni che io ho prima esemplificato nello scambio dei prigionieri o nel soldato israeliano che dà il vaccino antipolio al bambino palestinese. Anche perché, riflettendoci, nelle fasi culminanti delle grandi guerre, questo non accadeva, cioè voi non avete immagini conciliative. Adesso per parlare, per non fare i soldi esempi sul nazismo, ma durante il genocidio armeno di un soldato turco che vaccina un bambino armeno ne avete immagini di scambi di prigionieri costanti durante la seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale i prigionieri preferivano ucciderli le parti nei campi, lasciarli morire nei campi e gran parte dei morti sono dovuti, gran parte dei morti nei lager nazisti ma anche nei lager siberiani, sono dovuti all'impossibilità di fare scambi. Quindi quei piccoli gesti che vi sembrano qualsiasi, diciamo vabbè meno male che è accaduto. A parte che sono stati in dimensioni molto più vaste, molto più considerevoli di quello che io pensassi. quando man mano che mi sono avvicinato a questi gesti ho capito che avevano un'ampiezza molto maggiore di quella che pensassi in partenza. E poi, non so, io lo dico per esperienza personale, sono partito così così con una grande diffidenza e quasi irrisione della missione del Cardinale Zuppi che andava lì come un disgraziato da solo, accolto con freddezza in tutti i paesi del conflitto ucraino-russo per riportare indietro dei bambini. E poi mi sono accorto, certo non ha riportato indietro tutti i bambini, però non ha riportato. E quei bambini, voi un giorno si farà la storia di quei bambini riportati indietro e sarà una delle storie che mi auguro riuscirete a vedere in delle serie televisive molto molto commoventi perché sono piccoli uomini che da soli vanno lì e fanno delle cose di cui i giornali non si occupano, di cui l'informazione si occupa troppo poco e che sono invece cose di costruzione di pace. Per cui, ripeto, io stesso mi sono dovuto ricredere su molte cose che pensavo all'inizio di entrambi i conflitti. E questo è una cosa importante che voglio dirvi se avete la disponibilità di raccogliere. Tutte le cose in cui voi vi ricredete sono importanti. Tutte le cose in cui voi confermate l'idea che avevate il mattino prima di leggere i giornali o la sera prima di guardare i telegiornali sono cose quasi dannose, quasi tossiche. L'importante durante le guerre è riuscire a cambiare opinione, riuscire a cambiare il proprio punto di vista perché riuscendo a cambiare il proprio punto di vista vuol dire che ci si sta arricchendo, si sta capendo qualcosa di più. Se voi una cosa la pensavate all'inizio del conflitto e continuate a pensarvela e cercate in un mondo di informazione eccessivamente diffusa e accompagnata da false informazioni di trovare solo conferme a quello che pensavate all'inizio e fate un'operazione tossica nei vostri confronti, cambiare opinione, non cambiarla nella parte sostanziale perché è chiaro che ognuno di noi ha un'idea abbastanza precisa di chi siano gli aggressori, chi siano gli aggrediti e non ricomincio con il solito tran tran, ma tutto ciò che ci dispone a capire le complicazioni di una guerra ci fa più moderni e anche più fiduciosi nell'operare in tempi di guerra. Noi stiamo operando, stiamo lavorando in tempi di guerra, la guerra è già tra noi e il fatto che non vengano bombardate le nostre città non significa nulla perché se vincesse lo spirito di fazione un giorno o l'altro verrebbero bombardate anche le nostre città. Allora hai evocato l'Irlanda che ha animato poi l'immaginario di tanti negli anni 70 ora sembra dimenticata, mi ricordo un meraviglioso saggio di Eric Osbam che spiegava come il kilt che noi immaginiamo come una tradizione antica, ancestrale, i clan, le tribù fu inventato nell'800-848 dai romantici nazionalisti per retrodatare e nobilitare la loro tradizione quindi quando vedete anche Sean Connery col kilt dovete immaginare che è un trucco però un capitolo decisivo, importante, molto attuale che è scritto è quello sulla storia chiamiamolo del movimento sociale, della transizione della destra dentro la Repubblica mi ha colpito perché per lungo tempo quella storiografia era un appannaggio di pochi iniziati che tu cibi, vai da parlato all'anna, i fascisti immaginari mentre invece adesso è terribilmente attuale e terribilmente importante perché il primo partito italiano è un partito che si rifà a quella tradizione ed è un partito che ha il 30% mentre quel partito non arrivò mai al 10% nazionale quindi è come un caso in cui si trasferisce su un popolo più grande elettoralmente, culturalmente, una tradizione che apparentemente era più minoritaria ecco tutto è un giudizio molto articolato sull'ascesa di Almirante, sulle sue scelte decisive come lo spiegheresti diciamo proprio in un bigname a un ragazzo qui della scuola che volesse capirci qualcosa? Beh innanzitutto non posso entrare in un discorso di questo tipo senza riconoscerti il merito di essere stato una delle poche persone che anzitempo ti sei occupato di entrare dentro con un libro che è rimasto dentro questo fenomeno per cercare di capirlo non per cercare di fare un libro di propaganda e altri lo hanno fatto come te negli anni 70 e oggi quegli studi sono più utili di tanti altri studi criminalizzanti nel senso che mentre noi non ce ne accorgevamo o alcuni di noi non se ne accorgevano quel mondo si evolveva era un mondo nato per custodire le ceneri della Repubblica Sociale e anche per reagire alle ingiustizie che subivano non dimentichiamoci che per esempio le prime vittime delle Brigate Rosse furono due militanti missini di Padova a cui la storiografia corrente è stata indifferente però vorrà pure dire qualcosa e poi ci furono tante altre cose di questo tipo che spiegano anche a volte le difficoltà di questo mondo a cimentarsi con la parola antifascismo un tema che ricorre spesso nelle vostre puntate perché per loro l'antifascismo sono due sono uno l'antifascismo che vinse il 25 aprile del 45 e su quello fecero i conti abbastanza per tempo e poi fu il modo in cui i cosiddetti antifascisti dico cosiddetti ma diciamo sotto l'insegna dell'antifascismo si ripresentarono negli anni 70 e 80 dei tipi che ammazzarono alcuni di loro e fecero delle cose che non esito a definire atroci come furono atroci anche quelle fatte da parte di loro militanti o di frange di loro militanti nei confronti dei militanti di esponenti o ragazzi dell'estrema sinistra a volte la loro difficoltà o certi fenomeni che ci appaiono estremi come quello di Accalarenza hanno a che fare con questi secondi antifascisti non con i primi antifascisti per cui loro scusate dico loro per senso di obiettività perché mi presento come analista non per disprezzo o distacco ma poi voglio dire questo mondo va capito va capito che è una che con le forme del 45 si sono pacificati e le hanno accettate le hanno accettate già nell'epoca in cui era la guida di Alleanza Nazionale a Gianfranco Fini con la seconda esperienza siccome non è stata fatta ancora una cerimonia pubblica di omaggio a dei morti colpiti dai secondi antifascisti alla presenza del capo dello Stato questo non è ancora avvenuto un caso c'è una cerimonia si fa una volta l'anno con tutte le vittime un conto e tutte le vittime un conto cioè noi scusate io devo io vengo da una storia di sinistra e alle origini di estrema sinistra le nostre vittime vengono celebrate anche separatamente capito secondo me ci sarà un giorno in cui saranno celebrate ci sarà e verrà presto vedrai una cerimonia pubblica in cui persone come me renderanno l'omaggio a vittime dell'altra parte fatte dalla parte a cui io all'epoca appartenevo dedicata solo a loro non nel mazzo di dire ci furono anche loro è importante voi direte ma che ci importa di un passaggio di questo tipo no perché quella è la vera pacificazione quello è un vero passaggio includerli è già un momento importante ma non è sufficiente a sanare quella cosa di dire ma scusa quando tocca a me tutti nel mazzo quando tocca agli altri invece onori e strade dedicate allora ti faccio l'ultima domanda su questo perché hai detto siamo vicini potrebbe essere presto però ci sono stati dei corsi dei ricorsi momenti di accanimento momenti di tregua abbiamo avuto pacificazione poi di nuovo rabbia l'avulenza ha spiegato i due cicli gli anni 60 gli anni 70 cosa manca oggi perché si faccia quell'ultimo miglio di riconoscimento reciproco di pari dignità fra tutte le vittime e quindi le storie guarda dovessi dire l'impressione che ho è che lo si farà prima su scala europea che su scala italiana ci stiamo tutti rendendo conto in questo momento che mentre qualcosa si muove in Europa per fare un discorso più articolato sulla destra europea la destra europea è in avanzamento elettorale dappertutto adesso domenica ci saranno le elezioni in Brandeburgo sono le elezioni molto importanti e il fronte antidestra è molto impaurito da questa avanzata ed è diviso c'è una parte che dice ma noi dobbiamo regolarci con la destra in modo diverso da come ci siamo regolati in passato e separare e avviare un dialogo con quella parte della destra che è davvero disponibile a costruire insieme un'altra stagione dell'Europa da quella che invece non è disponibile ed è rimasta su posizioni di 20 30 o 50 anni fa in Italia questo ancora non avviene questo ancora non avviene perché in Italia noi conserviamo lo spirito con cui siamo entrati nella seconda repubblica che è lo spirito di uno scontro almeno apparentemente totale uno spirito in cui oddio poi si presta innumerevoli compromessi o rivalutazioni da secondo momento vuol dire che sono infiniti i casi in cui pezzetti o pezzi più consistenti della destra vengono recuperati al gioco politico quando serve a fare dei governi abborracciati di unità nazionale ma tutto avviene in un disordine concettuale che non è quello che stiamo applicando stamattina qui capisci quello che stiamo applicando stamattina qui è quello di dire abituiamoci a pensare che come non possiamo qualificare di comunista tutto quello che sta alla destra delle frontiere di Fratelli Italia o non dico più Forza Italia perché for me Forza Italia per un po' verrà messo fra i partiti della storia della sinistra Forza Italia sta avvicinandosi a passi da gigante fra un po' si vedranno i volti di Lenin Stalin Mao e Berlusconi affiancati perché sta correndo in quella direzione cosa di cui io mi compiaccio ma sono sempre diffidente per le corse affrettate poco metabolizzate o ruminate o così ma quello che più mi interessa è riprendo la tua parola la metabolizzazione secondo me ci vuole in questa fase una reciproca metabolizzazione e un riconoscimento che si può essere da due parti della barricata battersi estremamente cercare di vincere di battere l'altro senza però ricorrere a trucchi sotto banco a calci sotto il tavolo i trucchi sotto banco li conosciamo perché ormai questi ultimi trent'anni tranne i più giovani che sono tra voi li abbiamo passati tutti li sappiamo sono lo sgambetto giudiziario l'inchiesta malandrina la demonizzazione la demonizzazione eccessiva per cui qualsiasi cosa appare dall'altra parte viene bollata come un passaggio per tornare a regimi autoritari e anche ci metto dentro visto che ne siamo reduci da un'estate gli scandali sessuali usati mica una novità gli scandali sessuali usati per far fuori l'avversario hanno cambiato la storia d'Italia nel senso che la successione a De Gasperi fu regolata da un caso il caso Montesi se mi rinvitate un giorno ve lo riracconto la vera storia del caso Montesi perché mi serve un'ora fu la storia con cui alcuni gruppi più scalpitanti della democrazia cristiana fecero fuori la generazione designata dal Cide De Gasperi nel 54 quando morì per succedergli e lasciarono una traccia importantissima nella storia d'Italia nel senso che l'ordine mentale di De Gasperi che aveva governato l'Italia dal 45 al 53 quando fu sconfitto dalla legge maggioritaria al 54 quando morì fu definitivamente travolto da questi mezzi malandrini che poi furono usati quando io vedo apparire mezzi malandrini cioè lì in quel caso fu l'arresto del figlio del ministro Piccioni che De Gasperi aveva indicato come suo erede che era l'erede ordinato ovviamente anche questo povero figlio Piccioni poi che era un ottimo gestista che è frequentatore di attrici molto belle del momento non aveva colpe particolari fu assolto non passò nessun guaio le cose poi finiscono sempre nel nulla ma la storia intanto cambia per cui io ho preso l'abitudine passando dalle guerre ma più o meno la stessa che ho sulle guerre che quando vedo apparire scandali sessuali inchieste fulminanti dossier registrazioni telefoniche queste cose qua capisco che il paese sta vivendo ancora un virus di malattia ed è meglio che quelle cose non ci siano è meglio un paese in cui i conti si regolano in modo più scoperto più ordinato più regolare rimanendo gli uni da una parte gli altri dagli altri per cui diffido sia dei governi di unità nazionale che vengono messi tanto per cercare un momento di pace anche se diretti da personaggi eccezionali è stato Mario Draghi ma non importa perché non è il personaggio eccezionale che risolve le cose d'Italia le cose d'Italia e le cose del mondo vengono risolte da regole riconosciute da tutti in cui ci si abitua che una parte convive con la parte opposta la rispetta e rispetta appunto la regola abituiamoci a questo in Italia e nella politica internazionale vedete che è passato quella è la vera pace non un compromesso dell'ultimo minuto raggiunto su un fronte militare perché quel compromesso come è facile raggiungerlo così è facile romperlo allora grazie davvero a Paolo Mieli come abbiamo capito le sue fiamme del passato che credo potete trovare anche qui bruciano anche nel presente grazie chiediamo un'amnistia per questi 15 minuti ma vogliamo anche l'anno prossimo l'altra ora quindi è un credito messo da parte non so cosa centri se il presidente o le persone così sono interessate a un dettagliato racconto del caso Montesi però vi assicuro che è divertente è divertente e interessante grazie ancora io l'ho preso l'appunto la rivolgiamo l'anno prossimo l'invito penso che Michele l'invito è già servito magari la facciamo all'ora di cena o dopo cena io vi intrettengo sul caso Montesi e tutti gli altri scandali sessuali e tutti gli altri scandali sessuali grazie mille grazie immensamente grazie Luca per questa disamina attenta e precisa prego e Luca Deleza ha la capacità di arrivare correndo tra filati in mezzo incidenti stradali così e avere la compostezza io prima ammiravo la compostezza anche di Laura Chimenti voi dovete capire cos'è l'informazione non è in sala ma lo dico alle sue spalle con maggior piacere sono persone che ho visto lavorare su notizie capitate all'ultimo momento mettere su degli speciali eccezionali voi li vedete non ho c'è eccola eccola lei se lo ricorderà insomma l'anno scorso a ridossa del 7 ottobre io la vedi mandò 5 minuti in mensa e dopo quei 5 minuti fresca come una rosa condusse un interminabile un interminabile vieni dai perché te lo meriti a un clone un interminabile cosa il cui valore informativo è rimasto perché fu insomma fu una cosa molto densa e improvvisata quindi voi le vedete così queste persone lui è tutto pacioso ma è appena arrivato credo da un incidente in cui si è rotto si dovrà andare a ingessare una gamba non lo so e lei la vedete magnifica riposata come una che fa una vita no fanno una vita infernale sono bravissime ed è grazie a loro che possiamo fare questo lavoro grazie direttore chissà se ti devi ripreparare perché il 7 ottobre magari continueremo a raccontare la guerra tornerò tornerò da te il 7 ottobre brava grazie grazie a tutti grazie grazie mille